a tutti quanti, a chi mi vuole bene e a chi mi vuole male, a tutti quanti, a ricchi e a poveretta. Non gridate cristiano, siete cristiano? Io sì, sono cristiano, per carità. Lei chi è? Non lo so. Lei chi è? Che ne so io, lei chi è, dove sta? Lei, lei persona, lei. Ah, ieie. 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 Ieie, ieie. Ieie. Ieie, io sì, ieie. Siete cinese, buon uomo. Come? Siete cinese. No, no, per carità, no, no. No, no, che cinese, ho detto ieie, ieie. Ah, io. Eh, eh, perché, come ho detto? Ieie. Eh, appunto, ieie. Chi vi manda l'agenzia? Mi manda l'agenzia, loco, no, dirò lo con lamento. Come? Dico, loco, lo lamento. Cosa? Non lo so dire, ditelo lei, ecco. Ma se non so che cosa volete dire. Allora andiamo, letto, lasciamo stare, non se ne parla più. Eh, come ti chiami? Io, io mi chiamo, eh, Pappagone. Se mi fate il piacere, mi dà tanto l'anticipo. Quanto? Un anticipo. Eh, sedici mila. Non lo so dire, come ti chiami. Ciao, ciao. Grazie a tutti